inclusione sociale occupazione e microfinanza questi sono i pilastri di per micro la prima società in italia per micro crediti concessi ed ammontare erogato le nostre filiali sono su tutto il territorio nazionale entrando troverete un team di persone giovani e motivate che credono nell'inclusione finanziaria e sono pronti ad accogliervi e a seguirvi in un lungo percorso che arriva al credito dalla nostra nascita nel 2007 ad oggi creiamo occupazione e inclusione sociale attraverso l'erogazione professionale di crediti e microcrediti ci rivolgiamo a persone imprese che non hanno accesso ai tradizionali canali di credito e che hanno una buona idea di impresa da sviluppare oppure hanno esigenze legate alla salute la formazione e la casa oltre venture e fondazione paideia sono i soci fondatori di per micro grazie alla loro fiducia siamo arrivati fin qua ed oggi abbiamo nuovi partner istituzionali privati ed industriali in collaborazione con l'associazione micro la bonus per micro offre servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio a supporto del credito in particolare offriamo un accompagnamento ai microimprenditori nella redazione del loro business plan in fase di richiesta di microcredito e poi a finanziamento ottenuto svolgiamo attività di monitoraggio all'impresa avviata accompagniamo invece le famiglie nell'analisi della loro situazione economico finanziaria nella valutazione della capacità di risparmio e nella redazione di un bilancio familiare nei suoi primi dieci anni di attività per micro ha erogato più di 19 mila finanziamenti per un valore di oltre 138 milioni di euro i nostri clienti sono l'85 per cento famiglie e al 15 per cento imprese di cui ben il 50 per cento sono start up sono fulvio lo vera della filiale di per micro di torino e mi occupo di incontrare i clienti per istruire le loro pratiche impresa e famiglia jaceline è una nostra storica cliente famiglia che abbiamo conosciuto tramite la comunità filippina di torino che ha deciso di fare una richiesta impresa per l'apertura di un mini market per micro mi ha aiutato ad andare in filippine dopo dieci anni per risolvere per me il problema familiare inoltre mi ha aiutato la seconda volta per aprire una un altro business o una nuovo business in filippine insieme con mio marito bct è una società di trasporto di persone con tricicli a pedalata assistita il supporto di per micro è stato fondamentale soprattutto perché una start up come la nostra che propone un progetto innovativo ha bisogno di risorse per poter innovarsi e rilanciarsi come è capitato a bct e soprattutto richiede un supporto non solo finanziare ma anche di credere nel progetto e nell'idea di innovazione che si ha continueremo a lavorare per l'impatto sociale perché per micro e per fare per tutti noi e voi è un'opportunità unica per mettersi in gioco grazie a tutti